Ciao, sono Monica e oggi vi presenterò un'autovettura che sicuramente non vi deluderà, Citroën C4 Aircross. Il SUV compatto francese coniuga armoniosamente stile ed efficienza. Abbina l'eleganza delle berline della gamma Citroën alle linee più muscolose di un crossover. Equipaggiata di fare all'oxeno. I fari diurni a led situati in posizione verticale fungono da firma luminosa consentendogli di distinguersi di giorno come di notte. La posizione del conducente è realizzata per facilitare la guida. Il volante è regolabile sia in altezza che in profondità e permette di controllare direttamente le funzioni audio e il regolatore di velocità. Il pulsante Start Stop permette l'avviamento e lo spegnimento del motore. Abbiamo inoltre uno schermo 7 pollici touchscreen con sistema di navigazione. L'allestimento interno, come potete vedere, è totalmente in pelle. Oggi vi abbiamo presentato questa bellissima autovettura Citroën C4 Aircross. A parer mio è stupenda, io l'adoro e l'adorerete anche voi se venite a trovarci a Barzago in provincia di Lecco, in via statale numero 17. Noi siamo la Ratti, non solo auto. Grazie a tutti. Grazie. Ciao!